Porco il lama Allora, qual'è quello col termico? Questo qua, bene Qua zitiamo un attimo la gente perché poco fa c'era un bambino che cantava la canzone là di Fedez Quella di quest'estate Modificando le parole con Clash Royale Quindi era un bambino indemoniato Stavo per chiamare un esorcista in live L'avrei portato qua subito per fare il commentary Però non mi è sembrato, non mi sarebbe forse sembrato il caso Questa qui è la seconda partita della giornata Stranamente non è la prima Di solito sapete che mi piace portarvi la prima Perché succedono queste cose qua E dico ma come la prima volta è pure sto riuscendo a fare così E qui mi sento figo ragazzi Non ve lo nascondo Madonna No qua muoio, qua muoio, muoio, muoio Non saltare, non saltare ti prego Ok grazie Aspettate ragazzi un attimo di silenzio Perché qua siamo già concentrati Perché voglio chiamare le Streak Le Streak d'assalto Però l'aereo là che sbombarda L'attacco fulminante non mi vive il nome ragazzi Attacco fulminante o come si chiama Grazie per l'uav E poi voglio chiamare Ertalon Ma io sono qua ragazzi non c'è nessuno Andiamo nella mischia Buttiamoci in mezzo al campo di battaglia Moriamo come dei ritardati Tra 5, 4, 3, 2, 1 Ma è morto lui bene Ma quanti nemici abbiamo contro? 6, dove sono? C'è squadra raga ma Non voglio chiamare ma Voglio solo chiamarle Stricca Aspettate un attimo No, cos'è su? Che cosa? Ragazzi ecco queste qua sono le cose per le quali Odio il mondo certe volte no? Io lo odio a volte il mondo Perché succedono queste cose Adesso muoio lo so Lama lama non morire Non ci lasciare Sto proprio camperando Questo sniper first day peggiore della storia Però ragazzi finché non chiamo dei ricompensi Sto così col vino puntato Hit marker Mannaggia i ladri E poi mi rubano Passa qua Au A uno E l'altro? Ah io ho il colpo fulminante ragazzi Via Dai che sono qua Uno, due E l'altro mi è uscito fuori dalla mappa Mi è sfuggito il dito Mi è sfuggito il dito Non ne ho beccato nemmeno Ok uno si Bene Ragazzi suolta ma non riesco a Vabbè Mi sono rotto le scatole ragazzi Via Chi sto sparando non lo so Quante chi mi mancano? Cinque punti? Stiamo scherzando? Vai Anilator? Grazie Oh L'ho sparato l'altra colpa e non è partito Non si sa Era un road per il nuclear Road to nuclear ragazzi Però lo facciamo la prossima volta Non oggi Ora posso tornare Ora che ho finito il mio obiettivo Il mio obiettivo è stato raggiunto Posso fare il cecchino Airflex Vids Airflex Lama ragazzi Bam Airflex Lama Proprio lui Mamma mia Che però Facciamo una Mamma mia Una clip subito Fresh No 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 Non morire Non morire Non morire Guardalo come muore Ne ho uno qua Non è alleato Alleato No sto qui è alleato Alleato Ragazzi non trovo più nemici Non mi ricordo più come sono gli spawn In deathmatch Sto invecchiando Guarda adesso faccio una cosa Faccio una magia Ragazzi ecco una cosa utile A volte è questa qua Però Non è che sia particolarmente Dico Se dovete Fregare qualcuno No Eh fregare voi Che ritardato Che sono Però si può usare ragazzi È una cosa abbastanza semplice Sapete Vediamo un poco 86 punti Abbiamo proprio Stravinto questa partita Quindi Tutto merito mio Ovviamente Della mia street d'assalto Che non ha fatto una kill Però Ho sentito qualcuno qua No È già su Ma non ho capito Come stiamo killando Tutti quanti ragazzi Cioè Una velocità Dai la doppia Può uscire Oh Poi dice uno che Non si bucano i muri In questo gioco Mi fa proprio arrabbiare Questa cosa Mi toglie tutto il divertimento Eh questo colpo qua Perché non è entrato Mannaggia i ladri Ce n'è un altro lì eh Eh bravo Vediamo un poco Mi porto anche un'altra parita Ragazzi Tranquili Perché questa qua Ho dato troppo poco Mannaggia Mi è sfuggito il dito Dal mirino Non so cos'è Cosa sta succedendo Questa mattina ragazzi C'è un caldo E alla madonna Sta quello che mi sfugge il dito Comunque ragazzi Ci vediamo tra un attimo Alla prossima partita Ragazzi per l'intera partita Eh come possiamo vedere È Stronghold Che non è che la mappa Che mi emozioni di più Per usare il cecchino C'è questo ciuffo sparato Madonna Tra poco lo taglio E vi dicevo Continuiamo Continuiamo ad usare Blablabla Continuiamo ad usare Il nostro termico Perché mi piace un sacco Anche se Non è la mappa Migliore Per fare i quickscope E cos'è del genere Quindi chi se ne frega Tanto ho detto Sniper first day Non quickscope first day Quickscoping first day Quindi Impegniamoci solamente Per prendere i nostri wraps Voglio solo prendere Questi madonna di wraps Che Li ho appena messi Li ho appena sbloccati Più o meno Quindi Ok via ragazzi Carichi Carichi Vai mafia style 2-2 Ti aro 71esimo Maestro prestigio Che non ha capito Con chi ha a che fare Qua è il suo moglio Scusate Scusate Non guardate Non guardate Hitmarco E vabbè C'erano 16 La giù non li avevo Proprio visti ragazzi Ho fatto un Hitmarco Così Instant Kill Ma se avessi beccato Avrei voluto 5 dollari Da ognuno di voi Ragazzi Orco Il porco Qua colpa mia Sono morto Ragazzi Mamma mia Come gli ho preso Il cervello Questo qua Cosa sto facendo C'è un altro qua Scusate ragazzi Sto usando un po' C'è la pistoletta Però Sto per morire Sto per Mo Ri Re Quello lì era ancora là No l'hanno ucciso Dove sponeranno mai I nostri nemici I nostri amichevoli nemici Madonna che paura Mi sto spaventando Fuggi Fuggi Vivo per miracolo Davvero E uno ha saltato qua Silenzio Eccolo Ma quella è l'unica persona Al mondo Che usa quel perk là Per renderti invisibile Al termico Non miglioro o meno Come si chiama Starà facendo le sfide Forse Sbuca qua Sbuca qua Eccolo E' sbucato E' sbucato ragazzi Mamma mia L'ho sciolto Oddio Fuggi No non c'è L'ho qua Mi sono spaventato ragazzi E' ancora qua Quello eh No Ma io Gli ho sparato Gli ho sparato ragazzi Dove c'è finito il proietto Eh vi ho sentito il rumorino Però Lo sapevo che Era partito In realtà Non facciamoci vedere qua Ecco Uno Due Il terzo headshot Dove è? No non era un headshot Però l'abbiamo fatto Bene stiamo già a ricominciare Mi prendo subito La velocità della luce Mettiamo l'anilator Che l'anilator Ecco ragazzi Sarà l'unico specialista L'ho visto ragazzi Quello eh Dicevo l'anilator Sarà l'unico specialista Che io Utilizzerò Durante questa serie Dello sniper Thursday Perché Mi sembra carino no? Vale comunque la mira Diciamo anche con l'anilator Quindi Mi diverte utilizzarlo Qua ragazzi Sto per fare una fine bruttissima Per morire malamente In malo modo Ecco L'ho vista in terra Questa cosa qua Non l'ho beccata Ma perché sono così Testa di cane? Perché c'ho la testa di un cane? Con tutto il rispetto Per i cani Ma Non ho capito Perché devo fare ogni volta Queste boiate ragazzi Per incasinarmi la vita Non so dove Cioè perché siamo qua giù noi? Siamo in due E qua ci sono tutti quanti I nostri amici attorno Ah ok no È nato un altro Ok Rinforzi Bene Quanto ci mancano? 3 kill e me Cioè 4 kill ragazzi Per il talon Talon And altre 4 forse Oddio Mi sono spaventato Altre 4 forse Per il E-Raps Ok uno è là Ok sto per morire Sto per morire Ma io l'ho visto Madonna 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 Non morire là Ma non morire Mamma mia Fortuna con questa pistoletta Ragazzi Cioè In realtà Se da Iper First È una sorta di Pistoletta First Perché Faccio una kill Su una Con questo Però vabbè Capite che La situazione È complicata C'è un altro Dove è finito? Ce l'ho dietro? Dove sarà mai qua? Hitmarco Ecco Quelli che hitmarco Però raga Concedetemelo Di finirli Con la pistoletta Perché altrimenti Qua non Non facciamo più nulla Mi scopo Per questa Camperata bruttissima Ragazzi Sto fermo Col mio puntato Finché non riesco A uccidere A prendere il talon No Sto scherzando Voglio fare Qualche super L'ho visto L'ho visto Ragazzi Ma da qui Non vedo niente Ho visto Ho visto No 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 Fuggi la mano Fuggi la mano Sgaloppa via Ragazzi Vi giuro che Non voglio Assolutamente Camperare Ma è che Mi manca così poco Alla kill necessaria Per il talon Che non so Che cavolo Cioè I compagni Mi sono disposti male Non stanno giocare In deathmatch A squadre Sto morendo Tra 5 4 3 2 Ragazzi Guardate per il gameplay Più brutto dell'estate 2016 Però Oh talon Via Quanto vi manca Una kill Una kill Ai rops No Me l'hanno distrutto L'amalaganto L'amalaganto Ce l'ha fatta E poi è morto Con onore Ma è morto Dopo avervi Lanciato i rops Contro E sto rosicote Rosica Rosica Messaggio al telefono Lo rispondiamo dopo Mannaggia ai ladri Che mira Oh Che me sta succede Chi è morto Vai Anilator Sei tutti noi No ma porco Il lama Queste boiate Non vanno fatte Devo fare anche un video Appena riesco Vi insegno Quando utilizzare Lo specialista Cioè adesso Non guardate me Che sono usato male Però Solitamente Vi assicuro Che so Come si usa Qui voglio uccidere No scope No scope Se l'avessi preso Raga Altri 12 euro Su paypal Donation in live streaming Appena riesco a streamare Oddio 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 Mamma mia Cioè ragazzi L'amalagante Fa paura Fa paura Troppo pro Eh no Qua non c'è nessuno Adesso mi spawneranno dietro Dove mi spawneranno No Sono ancora giù in fondo Strano Non me l'aspettavo Eccolo qua Lo becco da qua Mamma Cioè Ragazzi Non si sa più Come definirlo L'amalagante E vabbè Porco il lama Questi hitmarker Schifosi 26-5 Molto buono Molto buono Mi gusta mucho Esta partita Hola Juan Sto qui mi ha fatto Troppo ridere Madonna Quanto sono forte Sono il più forte Del mondo ragazzi Non c'è niente da fare Vediamo un poco Vediamo un poco Se becco lo spawn qua Sì E l'altro dietro No non c'era E invece sì E avevo ragione L'amalagante Ha sempre ragione No 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 Pistoletta Aiutaci tu Pistoletta Pistoletta Grazie 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 No no Mamma mia Viste poi mi chiede A cosa serve il doppio triangolo Raga Ve lo ripeterò all'infinito Ma levati cane Schifoso L'urido Mi contagia Dalle smagnosi Le smagnosi Come si dice Le smagnosi Eh comunque Ah uno è morto Subito instant Ok L'altro invece è qua Che mi ha ucciso 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 Ebbè Mamma mia L'amalaganto Tiviamo fuori Il pistolone Tiviamo fuori Il ferro Vieni qua Dov'è Era sotto Sono cieco Vediamo quanto ci metto a morire Sono morto per danni da caduta ragazzi E sappiatelo Non per il secondo sparo Che mi ha dato Perché mi ha proprio mai beccato Allora vediamo un po' Dicevo Se notate però i jump shot Con il Come si può dire Con il propulsore Non entrano Bisogna trovare un modo Un attimo Certe volte mi viene un po' Distinto E capisco un po' come fare Però altre è proprio impossibile Basta Quando uno è Sono un pezzo di cane ragazzi Proprio un pezzo Non un cane intero Se no Ce l'ho dietro Ce l'ho dietro Ce l'ho dietro Ce l'ho dietro Fuggi Fuggi No Se fossi riuscito Ad aggirarlo In quella maniera S'è stato divertente Comunque l'attimo 5-14 ragazzi Sapete Pressoché Terminata Porco l'amato Tutti ragazzi Vi saluto Ci vediamo al prossimo video Non sto scherzando Aspettate un attimo Che Morco il porco Ti sciolgo Grazie Nel tastarei morto Malissimo Dai Via Così Finita Veloce Rapida In dolore Bene ragazzi 36-7 5-14 Andiamo sempre abbastanza bene Dai su Scherzando Nulla ragazzi Prossima partita Magari Prima farei qualche Equiscopo in più In realtà Ne ho fatti qualcuno Ditemi un poco Se vi piace Lo stile di gioco Ripeto Non sono un feeder Né un trick shooter L'uso semplicemente Come un'arma normale Come andrebbe usata Cerco di usarla E di sfruttarla Al meglio Raga Fatemi sapere nei commenti Come vi va Come state Porco l'ama a tutti ragazzi E ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Prone sexy Porco l'ama